musica 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 professor Warren salve anche a lei tanto tempo che non ci vediamo non ho bisogno di consigli penso di essere abbastanza esperto allora comunque in questa Nuzlocke ho randomizzato parecchio quindi cosa avevamo randomizzato rosso? l'infinito e oltre? sì decisamente i pokemon che trovavamo mi pare sicuramente gli starter sicuramente le mosse che possono imparare non i moveset ragazzi tenetamente ma le mosse che possono imparare i pokemon che hanno gli allenatori e quelli che allora maschio o femmina? ma chissà femmina allora ragazza sì indubbiamente allora mi chiamo Bella no nome che faccia Giovanni Giovanni ci sta? Giovanni 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 no 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 Giovanni in onore di un mio amico Giovanni perché? sii? ok così tu sei Giovanni un bel nome un bel nome si si è Teresa con la sorpresa come gli chiamano? e questo qua come cazzo lo chiamano? vai Ronaldo no a me sembra Elvis Presley e lo chiameremo Elvis Elvis ma nei simboli cos'è che c'è tra parenti? ah tipo altri che cazzo? oh mio dio Elvis cosa vuol dire? come si fa lo spazio? ok si è adesso hai detto Elvis esattamente mi ragione abbiamo appena iniziato già stiamo sfiorando il degrado e facciamo un salvataggio rapido no così si faceva e vedi i salvataggi rapidi tanta roba che tanto non servivano niente perché non lascia e vai vai su di una mamma con il teletrasporto oddio quanti simboli Elvis ecco di qui allora è Giovin sai cominci boom che succede? ciao Giovin sono andato ma mi neanche tu sbrigati tu vuoi andare a urdi si infatti oh no ho dimenticato qualcosa cosa hai dimenticato? il cervello no non ce l'hai mai avuto Elvis di figlio poverino non ci stava sennò avrei scritto Elvis mmm meglio che vorrei che mi piace mmm è Giovin ti aspetterò in strada e si è arrivata ah ma ho queste multe non ce li ho 10 milioni ce li avrai ma quando? fermi perfetto arriva il professor Rowan mi sembra che non so più che è che volete entrare nella balta che c'è la droga avete veramente i pokemon? no no ehi un momento cosa ti cercano di dire? ahem non succede se ti vedo quando? chiedi no no ehi un momento cosa ti cercano di dire? ahem sento che sia una scelta alquanto preclusa si ve lo chiedo ancora e lo che fu no cosa ce lo puoi chiedere anche 100 volte l'hai sposto sempre a serie non è 100 volte che mi viene i pokemon non è vero giochi no dai mi scherza cosa ce lo puoi chiedere anche 100 volte ce lo sai prendo? si ok guarda qua ci sono nuovi cerco non ci ricordi scegli poi charmant esatto ma c'è scritto vai ancora allora non prendo charmant si vai questo in realtà è il pokemon rosso non lo sapete voi allora what? bene ce lo si va molto bene ma siamo voluto dirlo il momento finalmente è arrivato è stato il maggior dono no 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 d'accordo ci sto qua ci sto qua ci sto qua ci sto qua analyst un analista ma rip è veramente ma rip charmant e su non hai fatto il verso amico graffio decisamente e su vedi che ha fulmini no 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 non ci credo far ruggito non ci credo partiamo malissimo partiamo proprio schifo ehi mi hai fatto male mi hai paralizzato mi hai bastardo no cazzo ruggito non ho neanche fu un misguardo stai scherzando guarda quanto ci monta quella quella pecora la pecora il bosco non ce la faremo mai non gli togli niente non gli togli niente brutto colpo dove il brutto colpo dai dai siamo voluti tanto tu sai che non ci uscirà mai il brutto colpo è una nazzlocke cioè non ci uscirà mai il brutto colpo ahhh 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 ma sto sarò ruggito mi provisci che ci attacchi ce la possiamo fare si che ce la potete fare ce la farete molto veramente ma a parte che non so che qui forse la prima battaglia è fatta per essere vinta forse sai che non lo so quindi forse continuerà il ruggito a me ecco no perché adesso tipo adesso non fa più niente tipo il caglio è uno ahhh 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 ragazzi stiamo per concludere la magia è stata intensa con una serie comunque ahhh è stata molto intensa bene ahhh 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 c'è che ti dico giovi è morto c'è che ti dico non ha neanche i soldi e gli dà e gli dà ma rip stavolta ruggito a me allora no ha bagliato e siamo già paralizzati di nuovo no zitti tutti ok ma un brutto colpo no 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 lo fa lui no lo fa no ma esistono qua o no però sì che esistono perché non ho ancora visto uno no forse la prima battaglia non puoi farlo no 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 ma io è al cambio palmo sta cosa sono rosso no io sono rosso no io sono rosso siamo tutti e due rosso e lui è fra me a due pure a uno ti prego ti prego ti prego sì 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 è bello ma ripete giù 60 3 punti almeno 60 impara braceri impara braceri impara braceri impara braceri impara il 9 sto sparando a casa non mi interessa se impara non impari braceri abbiamo perso andiamo a casa mi sento a pezzi devo riposare perfetto ci vediamo ciao jove ma muori città elvis presley c'erano le istruzioni c'erano renditi conto è tipo tu ricevi le scarpe e regalo tieni premuto il pulsante b e dov'è il tempo che scorre lo spazio in espansione un giorno li controllo completamente Sirius è il mio nome non scordarlo a chi lo dici fino all'ora dormi finchè puoi leggendario popolo del lago ok spostatevi fatemi passare oh senti zio a me non lo dici strano tipo molto fatturiamo quel pokemon credici aspetta aspetta cosa non abbiamo niente con noi c'è l'altro a te ne sei a corto adesso POC accento e VOL POC accento e VOL cosa vuoi va bene ho fatto bene ad affidati quelle esemplare di Charmander giusto ogni pokemon deve avere un soprannome me l'ero dimenticato ah questo è una delle regole dell'anazzo ok vai ok sul funnel per chi non lo sa vuol dire fiammifero ok ed è indeletubriciano va bene si prendo il pokédex sto così sei contento va bene il pokédex perfetto si dici di no ma no ma sei sicuro ho il pokédex ma no ma sei sicuro vuoi il pokédex ma no ma sei sicuro vuoi il pokédex 8 anni per averle mettere extra un micoio un micoio un micoio un micoio va bene va bene va bene va bene va bene se va bene è extra potete rai anche a suonere ne funziona cosa vuoi fare qui ce l'ho cosa è stato il tuo pokédex è morto come è morto allora se non ricordo male adesso c'è chi ti zio kairo scempronio che ci fa il tutorial prendi le pokeball? no ce ne regalo un po' lui ah giusto cosa ti dici? non è mai succeso ma si c'era il bug di missile davvero? quando il vecchio nel tutorial il pokemon russo lo sa si ma quello si tipo l'ho catturato e vedi tipo la capella e tipo è ancora lì visto non male è importante farlo abissar abissar ricordi che se no non faccio niente dalla cattura dei pokemon giugno ti darò 5 pokemon come sei gentile chi sarà il primo pokemon? beat off aspetta non guarda no esercito a pressione ma porca no ma guarda che mi uccide malissimo ruggito il tuo merda si mentre ho paura di killarlo oddio madonna ragazzi ragazzi adesso dovete tutti premere il tasto che vi dico io anche se siete sul telefono spaccate il telefono vi dico non ci sarà mai più un entei vabbè lamentiamoci a schifo non fa neanche questo scusa ragazzi chiedo l'ipotesi del lui perché io non mi ricordo se di che momento quando muore hai perso no quando muore il pokemon che devo catturare te che devo catturare un altro in teoria perché devo catturare un pokemon per zona che ho fatto me lo spieghi a te che ho fatto di male nella vita me lo spieghi ha solo tuononda no no basta lo butti dentro tipo guardi tuononda ok dovete premere tutto ma ti darema lo sapevo io ragazzi non siete d'aiuto dovete premere quel pulsante no state facendo un cazzo c'è stato? c'è allora che si chiama Dragowski perché è il terzo portiere della fiorentina proviamo a vedere l'alte c'è stato tipo del piccio cvvlifish cvvlifish che ho ancora capito come si legge sto nome meglio cvvlifish cvvlifish cvvvlifish allora se adesso lo stai dentro o stai dentro o muori e non torni indietro per prendere un altro poco mi stico sprecato già più che a sufficienza c'è stato? c'è stato perché ha visto ho una vita lunga e serena davanti a me andiamo avanti ecco Gennaro Bullo vai Gennaro Bullo che adesso non si chiamerà mai Gennaro Bullo si chiamerà tipo Ginkwancesk Freyfink allora vengono se è un'allenatura come me i nostri sguordi sono incrociati non vengono a lottare chi l'ha deciso? il presidente degli stati Obama l'ha deciso con la fita di Wayne Wayne designer è un designer tiro opera allora 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 inizio il tuo mondo proprio così è schifo perché ci piace perché è giusto così vai vuoi Prevegenza si sono di tipo drago te ne sei accorto? Prevegenza? si funziona per coprire i tipi spettro ehm vediamo quanto gli fa Tornado così Tornado fa questo oh l'amigietta beh ora ragazzi ci sono un'evoluzione però è meglio non scherzare col fuoco mai mai scherzare col fuoco soprattutto nelle Nuzlocke oh questa mossa mi piacerà tantissimo fa tentennare bellissima ragazzi avete idea di quanto sono utili le mosse che fanno tentennare nelle Nuzlocke le mosse che fanno tentennare sono tipo grazia divina Wayne designer troppo forte troppo forte vedo la cosa che tu non vedi un alienatore lottiamo che simpatica che sei cosa sei tu? il titano? il swimmer o femminile? se era maschio era preoccupante pikachu pikachu non posso paralizzarlo caso ma lui può paralizzare il mio po però tu colpisci Tornado non è fisico non è fisico però siamo sicuri perché qua le mosse che non sembrano fisiche sono fisiche vabbè può usare l'ugito quanto vuoi se non è fisica non mi interessa ragazzi sto cercando di allenarne un po' tutti per il brutto colpo perché il brutto colpo dovesse sempre al finale? magari imparare la ira di drago? se imparare la ira di drago è fatta toglie 40 di fisso 40 di fisso 40 di fisso un momento di così che non sarei così stigato l'hai detto l'hai detto zekro adesso lo riconosco ma voglio vedere come si chiama Bliss da Thomas designer sono tutti designer blissi blissi non mi ricordo una difesa che fa schifo ha un casino di PS ma una difesa che fa schifo beh intanto giusto per giusto così tu mi vuoi dire che c'è una Poco Ball di qua che contiene ooooooooooooo pozione vai dragovski abbiamo un portiere noi cos'hai tu da usare eh? allora andiamo avanti siamo a Giubilopoli esce la gran merda perchè deve caricare la zona ok salve lei ehi Giovi quanti Poco hai catturato? penso dovresti catturare di più essendo una Nazlock ho delle cose a posto ma vale la pena più possibile e a proposito che se non si prende più su poco sì perfetto la scuola allenatore non voglio andare a scuola mamma quel tizio cosa sta facendo? salva lei bell'occhio che si sta facendo notare quanto oh scusi io sto pochino cosa? ora come facevate a saperlo? come avete fatto capire che sono un agent della polizia internazionale? ma mi sono riuscito eh come? sta scherzando? stavamo solo chiacchierando? oh sospetto e così volete farmi chiedere che stavate solo chiacchierando? ma io non ci casco no 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 ma questo tizio quanto parla? dai dei crimini bla 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 ti ingalascia spoiler ehi a caso stia dietro il lampione lei no è nato devo mettere in pratica le cose che mi avrà addirittura di me le dimentiche non puoi avere magica ti prego ti prego Robin Strongman ma non lo ha fatto o o o mi sta scherzando ma i divinazioni o o o o o o o o